Una maschera viene definita tipica quando diventa patrimonio della manifestazione e patrimonio della città. Quindi significa che l'essere una maschera tipica vuol dire anche promuovere l'amore per la maschera e l'utilizzo del costume. Così come lo è per esempio Arlecchino o Balanzone che sono delle maschere tipiche italiane, anche un privato cittadino che voglia così travestirsi da Balanzone o da Arlecchino lo può fare tranquillamente. Un esempio del genere è stato dato dal gruppo degli sceriffi che negli ultimi anni sta trasmettendo il culto della maschera alle giovani generazioni. Partendo da bambini di scuola elementare che a loro volta coinvolgono anche i propri genitori nel travestirsi da scereffo e partecipare proprio al gruppo nei corsi mascherati. Quindi questo significa essere maschera tipica, consegnare alla città la maschera. Il Carnevale Coratino vanta ben tre maschere tipiche, non credo ci siano altre manifestazioni carnascialesche che hanno questa bella tradizione e che vantano le tre maschere tipiche. Sono in ordine cronologico sono in ordine cronologico la vicchiared, l'upanzone e lo sceriffo. Ho detto in ordine cronologico perché appunto siamo partiti dalla più antica, la vecchierella, che si può far risalire addirittura al regno di Napoli. Infatti deriva da una tradizione napoletana, da una tradizione campana, tanto che a Manfredonia per esempio organizzano durante la giornata della Pentolaccia una bella manifestazione che è il raduno dei Carnevali del Sud e proprio a Manfredonia in una di queste edizioni dei Carnevali del Sud abbiamo incontrato una figura simile alla vecchierella che veniva dal Salernitano pressoché uguale però la figura è all'incontraria cioè il pulcinella che porta in spalla la vecchierella ma in ogni caso il significato è comunque lo stesso perché ognuna di queste tre maschere tipiche nasconde chiaramente un'allegoria appunto allegoricamente rispetto a quello che rappresentano nascondono un significato che addirittura diciamo alcune volte nasconde proprio una sofferenza, un modo di esistere, una particolare condizione. Nel caso della vecchierella è rappresentata appunto l'anziano che trasmette la sua esperienza al giovane quindi trasportandolo in spalla quindi trasferendo proprio le sue esperienze e nonostante sia incurvato sotto il peso della vita comunque non stramazza ancora al suolo perché non è ancora pago di esperienze. È una bella maschera perché comunque è rappresentata, è raffrigurata appunto la vecchierella come una figura molto esile ma nello stesso tempo forte proprio, forte di questa esperienza di vita che poi trasmette al giovane. La seconda maschera tipica è nata alla fine dell'Ottocento ed è il panzone, anche l'allegoria di questa maschera che nasconde l'umiltà dei condadini e la difficoltà del vivere dei condadini, dei poveri braccianti che una volta all'anno si prendevano gioco dei potenti abbuffandosi e quindi rappresentandosi in questa maniera con questo aspetto molto pulento. Tra l'altro l'origine umile e contadina è proprio rivelata nel costume, nell'abito del panzone che è fatto di telaiuta, addirittura i sacchi dismessi che servivano per la raccolta delle olive poi andavano a essere utilizzati per realizzare l'abito del panzone. Originariamente era imbottito di paglia, adesso attualmente la paglia è stata sostituita con altri materiali moderni, tipo la gomma a piuma. Mentre lo sceriffo è nato nella seconda metà degli anni 40 ed ha quest'abito molto elegante, pieno di lustrini, che ricalca un po' l'abito dei mariaci che sono dei musicanti sudamericani che hanno quest'abito molto elegante e girano per le strade delle città portando allegria e suonando. Che cosa rappresenta? Rappresenta appunto il momento dell'emigrazione dei nostri genitori, dei nostri nonni che così partivano alla volta delle Americhe e di altri paesi per andare a cercare una nuova condizione di vita. Una volta che questa condizione era ritrovata e tornavano finalmente accorato con il loro bruzzoletto avevano così il piacere di sfoggiare questa nuova condizione economica ritrovata. Chiaramente è uno sceriffo pacifico perché non ha le pistole ma tiene il tamburello ed è rappresentato con questo grande copricapo. Possiamo dire che comunque questa maschera è stata in auge dalla seconda metà degli anni 40 fino agli inizi degli anni 60, poi era andata un po' scomparendo e ad opera di un'associazione culturale di corale, il Cicres, nel 1996 è stata riportata in vita e riscoperta, tanto poi da essere nominata terza maschera tipica, non solo, ma ha anche rappresentato il Carnevale Coratino in alcune importanti manifestazioni carnascialesche della nostra Italia come Putignano, Viareggio, Cento, Ascoli, Manfredonia e tra l'altro portando con sé delle bellissime coreografie è un gruppo numerosissimo, tanto da essere quasi considerato un gruppo folcloristico.